Tessere e frammenti è il titolo della sesta edizione della mostra organizzata da Moseichiamo la città, di che cosa si tratta? Si tratta di una mostra collettiva di mosaici dove proponiamo la differenza di tecniche e di materiali. Quanti sono gli artisti che spongono e da dove provengono? Quest'anno gli artisti sono 13, ci sono 13 opere, provengono dal Brasile, dalla Giordania e da diverse parti d'Italia. È un momento di condivisione, attraverso il mosaico, che ha le tessere diverse e insieme costruisce un qualcosa di unico e quindi è la condivisione della bellezza e dell'espressione di ogni artista rispetto al mosaico che ha realizzato. Quest'opera dietro le sue spalle che cosa rappresenta? Beh, è una trasposizione mosaico di un argomento che tratto anche fotograficamente, che è Dialoghi sul mare. Normalmente io faccio fotografie, però poi mi sono appassionata grazie a chiaroscuro anche al mosaico. Sono neofita, sono anche abbastanza disordinata nei miei mosaici rispetto ad altri lavori. Mi piace lavorare così all'impronta, in diretta, seguendo le linee che mi chiamano e quindi è un motivo astratto che riprende le profondità del mare, ma anche la profondità dell'animo, se vogliamo. Quali sono i materiali usati? Beh, sono sicuramente dei tritiffani, in gran parte, ma ci sono anche delle berline, ci sono altri piccoli materiali di recupero. Comunque una ricerca di materiali molto accurata e, come dicevo, lavorando in diretta, poi i colori e le forme e le direzioni da sole chiamano altre cose. Miranda, qual è il titolo di questo lavoro? Il titolo di questo lavoro è La voce del mare. Visto che parliamo di materiali del mare, tutti i vetri levigati dal mare, sassi colorati dal mare, prescelti comunque, io ho voluto dargli questo nome, insomma. Passo troppe ore al mare e ho voluto creare quest'opera dopo un periodo molto difficile della mia vita, aver superato una brutta malattia, ho cercato di interpretare quest'opera per trasmettere tutta la luce che in questo momento c'è dentro di me e alla gente che osservano quest'opera qui. Con la luce trasmetto la luce dell'anima, con la sfera il mondo di appartenenza di ognuno di noi, con i sassi colorati unici e simili ma non uguali le persone di tutto il mondo e con i vetri del mare voglio trasmettere il lavoro che facciamo noi tutti i giorni con le difficoltà della vita, come ha fatto il mare con i vetri levigandoli. Beatrice, che cosa rappresenta la sua opera? Questo mosaico rappresenta un gabbiano in volo ed è un gabbiano stilizzato, realizzato con vetri tiffani e materiale misto, specchi e vetri. È la prima volta che partecipa a questa mostra? No, partecipo già dall'inizio, dalla prima edizione, che faccio parte anche oltre dell'associazione Chiaroscuro, anche proprio del gruppo Mosaichiamo la città, che da qualche anno a questa parte stiamo realizzando degli aredi urbani con materiale di recupero nei muretti del lungomare di Marotta.